Fanciulli, buongiorno. Dunque, anche se tutti quanti in questo momento hanno gli occhi puntati su Israele, sul Medio Oriente e si sono quasi completamente dimenticati, perlomeno dal punto di vista mediatico, della situazione in Ucraina, voglio quest'oggi tornare a parlare di questo argomento e cercare di condividere con voi una serie di riflessioni su quelle che sono le conseguenze di questo conflitto, che ovviamente è ancora in corso, è ben lontano dall'essere finito, quasi sicuramente si protrarrà almeno per tutto il corso del 2024, se non ancora oltre, per cui sono perfettamente consapevole che tutto ciò di cui andiamo a parlare oggi più o meno sarà un qualcosa di parziale, che dovrà poi essere aggiornato in futuro, quando e se questa guerra avrà poi una fine definitiva, che non sia una tregua momentanea per poi riaccendersi più avanti. Però già dall'inizio questa guerra ha fatto capire a tutti quelli che l'hanno seguita da vicino, come il sottoscritto, che non era una guerra come tutte le altre. Se vi ricordate all'inizio, proprio nei primissime settimane di guerra, avevo condiviso una serie di video con voi, tra cui un video che rifletteva sul fatto che questa guerra avrebbe cambiato per sempre le sorti d'Europa, ma più sono passati i mesi, più sono successe cose, più la cosa è andata a peggiorare, a subire un'escalation sia diplomatica che poi anche militare sul campo, e più è stato evidente che questa guerra avrebbe cambiato proprio le sorti del mondo. E secondo la mia umile opinione non c'è alcun dubbio che tra una decina d'anni gli studenti sui libri di scuola si troveranno a parlare di questa guerra come una guerra che ha segnato un prima e un dopo nelle dinamiche di equilibrio mondiale, sia da un punto di vista politico, che geopolitico, che economico e tante altre cose. Ho voluto mettere insieme per questo video 10 di quelli che secondo me dopo mesi e mesi di riflessioni sono i punti in assoluto più importanti, anche per fare un po' cifra tonda, che 10 è meglio che 9, 11, ma che so ste cifre, 10, ah preciso, ma sono perfettamente consapevole che sono molte di più le conseguenze e che sicuramente ce ne saranno altre a venire nei prossimi mesi, per cui insomma se vi va di seguirmi in queste riflessioni mi farete sapere se siete d'accordo, se ci sono cose che secondo voi sono più importanti che magari non mi sono venute in mente o qualunque altra cosa vi dovesse venire in mente. Ringrazio prima di cominciare lo sponsor di questo video che è Cambly, che per questo mese, novembre 2023, vi offre lo sconto più alto di sempre, 60% di sconto sui piani annuali che insomma, tradotto vuol dire 9,99€ al mese, vi costa meno di un abbonamento Netflix e se non sapete che cosa è Cambly, Cambly è una piattaforma di e-learning per imparare l'inglese attraverso lezioni a tu per tu con insegnanti madrelingua che potete selezionare sulla base dell'accento, sulla base della provenienza geografica, sulla base della competenza su certe aree dell'inglese, potete fare dei corsi di certificazione come l'ILTS, il TOEFL, potete scegliere tra oltre 10.000 tutor che siano adatti per il livello principiante, intermedio, avanzato, insomma in qualunque modo voi vogliate migliorare il vostro inglese Cambly vi dà una soluzione ma soprattutto vi offre la possibilità di imparare l'inglese nel modo migliore che esista, cioè parlandolo con un madrelingua, con una persona che è nata parlando quella lingua e che quindi vi può aiutare con naturalezza e spontaneità a esprimervi meglio, essere più fluidi, più sciolti, vincere al timidezza e aprirvi ovviamente tutte le possibilità che conoscere l'inglese vi apre, siano esse di viaggi, siano esse di lavoro, siano esse di studio, conoscenza e chi più ne ha più ne metta. Come vi ho detto all'inizio è novembre, è il mese del Black Friday, delle grandi offerte commerciali e Cambly non fa eccezione, vi regala il 60% di sconto sui piani annuali, equivalente a 9,99€ al mese che è un prezzo veramente ridicolo e assolutamente non comparabile a nessun'altra scuola di inglese. E in via del tutto eccezionale, ai primi venti che sfrutteranno questa offerta, Cambly regalerà una copia del mio ultimo libro, L'altra faccia della Russia. Per sfruttare tutto questo, come al solito, nulla di più semplice, cliccate sul link in descrizione e usate il coupon TIOZZO60BF come Black Friday al checkout. Ma questa, sfortunatamente, è l'ultima bella notizia che ho da darvi in questo video, perché l'argomento, come avete già capito, non è così piacevole, ma è comunque assolutamente importante averne una comprensione. Per cui iniziamo questo mio personale decalogo sulle conseguenze della guerra in Ucraina. La prima ovvia conseguenza, potrà sembrare banale, ma è che l'Ucraina è un paese completamente devastato. Stiamo parlando di un paese che prima della guerra aveva 41 milioni di abitanti, che aveva una marea di problemi, di corruzione, di povertà, eccetera, eccetera, ma comunque era un paese che stava a galla, che esisteva. Da quando la guerra è piombata sul suo territorio, l'Ucraina ha fondamentalmente cessato di esistere come uno stato sovrano. È totalmente dipendente dagli aiuti che arrivano dall'Occidente, sia dal punto di vista militare che anche dal punto di vista economico. Sta subendo le conseguenze di una devastante crisi umanitaria, con milioni e milioni di profughi che hanno abbandonato il paese, verosimilmente per non tornarci mai più, o perlomeno per non tornarci per parecchi anni a venire. A seconda delle stime, stime diciamo occidentali, sono sui 30 milioni di abitanti rimasti, secondo le stime russe 20 milioni di abitanti, ovviamente l'oro appunto non ha rialzo. Comunque, metti anche che siano solo, tra mille virgolette, 10 milioni di abitanti ad essersene andati. Capite bene che questa perdita è un macigno che pesa tanto quanto le bombe sul destino di questo paese, perché 10 milioni di persone in meno che non torneranno, e questo include sia le persone che sono emigrate, i profughi di guerra veri e propri, che sono circa 6 milioni, che le persone che abitavano negli oblast che sono stati annessi alla Russia, e che anche in seguito al fallimento della controoffensiva estiva, che per carità poi magari un domani cambieranno le cose, però supponendo che questi territori annessi dalla Russia non rientrino sotto il controllo ucraino nel breve e medio termine, se non mai definitivamente, ecco anche gli abitanti di quelle regioni devono essere considerati come abitanti persi, perché appunto non contribuiranno allo sviluppo del paese. L'Ucraina all'inizio degli anni 90 aveva 50 milioni di abitanti, un paese che in 30 anni perde 20 milioni di abitanti, quasi il 50% della sua popolazione originaria è un paese che non ha un futuro. E se noi a questo sommiamo la devastazione delle infrastrutture, delle infrastrutture portuali, di quelle energetiche, delle strade, delle ferrovie, delle dighe, dei ponti, di tutto ciò che è stato distrutto dai russi e che verrà ancora distrutto nei mesi a venire, perché adesso si avvicina l'inverno e nessuno è in grado di escludere che i russi non faranno nuovi attacchi missilistici come quelli dell'anno scorso per minare la resistenza dell'Ucraina al freddo. L'Ucraina è uno stato disfunzionale, è uno stato che per garantire a se stessa un bricio, un minimo di possibilità di esistenza, deve interamente affidarsi al sostegno dell'Europa degli Stati Uniti, cosa che come ormai tutti hanno capito è un sostegno che è soggetto a fatica, è un sostegno che è soggetto a perdite di consensi elettorali di tutti i partiti, di tutti i paesi che sostengono gli aiuti all'Ucraina e infine è un sostegno che dipende drasticamente dall'agenda in politica estera degli Stati Uniti d'America, che se tra un anno, due anni, cinque anni, quello che è, dovessero effettivamente entrare in uno scontro diretto con la Cina, che è il loro reale primo avversario, allora per l'Ucraina non ci sarebbe nessun tipo di speranza. Chiunque abbia a cuore la sorte del popolo ucraino inevitabilmente sa bene che quando i toni di giornale scemeranno, quando l'attenzione si sposterà da altre parti, come appunto con il caso di Israele, chi dovrà fare i conti con questa realtà sono appunto quelle persone e non noi che stiamo qui da questa parte a tifare per uno per l'altro, peraltro insomma con tutte le dinamiche che si sono viste in questi anni. La seconda conseguenza fondamentale di questa guerra è che è stato tagliato definitivamente un cordone umbilicale economico che aveva unito la Russia e la Germania e di conseguenza tutta l'Unione Europea nel corso degli ultimi vent'anni. È stato detto tantissimo su questa cosa, che sono stati fatti degli errori da parte europea, che non avremmo mai dovuto fidarci dei russi, prendere da loro il gas, stabilire questa forma di dipendenza energetica eccetera eccetera. Tuttavia nel fare questo mea culpa di stampo occidentale si dimentica molto spesso il fatto che lo sviluppo economico dell'Europa negli ultimi vent'anni è stato interamente o quasi dovuto al fatto che l'Europa e specialmente la Germania poteva contare su forniture energetiche a basso costo in abbondanza e affidabili. L'intero modello economico tedesco è basato su una forte industria che consuma grandi quantità di energia per produrre tutta una vasta gamma di lavorati industriali ad alta complessità che colloca la Germania tra le principali potenze industriali del mondo ma che appunto non può non esserlo senza energia a basso costo. Nel momento in cui viene tagliato questo cordone umbilicale in senso proprio fisico perché ovviamente stiamo parlando dell'esplosione dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 allora inevitabilmente sono tante le cose che devono essere rimesse in discussione sia da parte nostra in Europa specialmente in Germania che il paese in assoluto che sta patendo di più questa guerra da un punto di vista economico sta patendo di più le sanzioni contro la Russia e il fatto di aver perso il suo approvvigionamento energetico privilegiato ma inevitabilmente come è stato detto fino alla nausea anche la Russia ci deve fare i conti perché ha perso il suo cliente principale. La Germania è un paese che deve essere tenuto d'occhio ora nei primissimi mesi di guerra si è parlato molto del riarmo della Germania del fatto che i tedeschi avessero pianificato un piano di riarmo straordinariamente ampio rispetto ai loro standard dopo la seconda guerra mondiale e tutti noi sappiamo che quando la Germania si riarma poi le cose non vanno a finire bene ma al netto dei riferimenti storici delle suggestioni eccetera eccetera storicamente una Germania forte e sana dal punto di vista economico è un ingrediente essenziale per la stabilità europea e se la Germania perde questo status e peggio vola verso una recessione verso un'instabilità economica e vuoi anche politica allora questa è una cosa che può preoccupare realmente tutti i paesi che le ruotano intorno a cominciare da noi e che inevitabilmente è una cosa che dovrà essere seguita con molta molta attenzione nei prossimi anni perché appunto i suoi sviluppi potrebbero essere particolarmente critici. Sempre restando in Europa ma spostandoci sul piano militare tutti i paesi dell'Europa dell'est e quindi dell'ex patto di Varsavia o ex Unione Sovietica nel caso dei paesi baltici hanno tra virgolette sfruttato questa guerra per svuotare dei propri magazzini tutti i sistemi di arma sovietici le vecchie munizioni tutte le armi che potevano essere utili alla causa ucraina che ovviamente si avvalse si avvale ancora oggi in larga parte di armamenti derivati dai tempi dell'unione sovietica e sostituire tutte queste armi vecchie tra virgolette con armi nuove di nuova generazione conforme gli standard della nato e questa cosa è particolarmente vera nel paese che è diventato la punta di lancia della nato in Europa cioè la polonia e che però vi trascorsi storici plurisecolari vede nella Russia il suo nemico numero uno è l'ipotesi che l'Ucraina perde la guerra è l'ipotesi di trovarsi ai confini nuovamente la Russia come accaduto in passato è un qualcosa che ovviamente i polacchi vogliono fare di tutto per evitare o perlomeno quantomeno prepararsi nel caso malaurato dovesse accadere una cosa del genere si dovessero trovare a fronteggiare una situazione di contatto che sarebbe molto più che incendiaria comunque questa è una cosa che è ben lontana dal verificarsi ma ciò non toglie che appunto i paesi dell'Europa dell'est hanno avviato un cospicuo pieno di riarmo come conseguenza di questa guerra e questa cosa vale in generale per tutti quanti i paesi della nato e visto che parliamo di nato come non citare una delle conseguenze più eclatanti di una guerra che perlomeno a parole a dichiarazioni formali è partita per evitare un'ulteriore espansione della nato e che invece si è espansa di ben due membri che storicamente erano sempre stati neutrali Svezia e Finlandia e una conseguenza a mio personale modo di vedere preoccupante per il futuro della sicurezza della stabilità in Europa perché avere degli stati neutrali che facciano da cuscinetto da tra due zone che tendenzialmente hanno rapporti conflittuali come l'Europa occidentale e la Russia era un qualcosa che sicuramente giovava alla stabilità generale peraltro giovava anche a Finlandia e Svezia che da questa neutralità hanno tratto grandi benefici però non è più questo il caso e la nato si è allargata il confine militare tra paesi membri della nato e la Russia è aumentato di un migliaio di chilometri e questa cosa inevitabilmente sarà un qualcosa con cui dovremo fare i conti in futuro in un modo o nell'altro parallelamente all'espansione della nato un'altra conseguenza fondamentale è l'espansione dei BRICS cioè questa organizzazione di cooperazione economica tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica che negli ultimi 10 anni, l'ultimo no 12-13 anni della sua esistenza era sempre rimasta limitata ai suoi paesi fondatori senza pianificare un suo allargamento e beh dal primo gennaio del 2024 avrà sei nuovi membri e peraltro neanche membri di scarsa importanza appunto perché a partire dal 2024 entreranno a far parte dei BRICS Arabia Saudita, Argentina, Emirati Arabi, Egitto, Etiopia ed Iran espansione dove spicca in maniera lampante l'adesione di due paesi come l'Iran e l'Arabia Saudita due dei principali produttori di petrolio mondiali che si trovano a cooperare con la Russia altro fondamentale produttore di idrocarburi e peraltro nella lista d'attesa di altri 22 paesi che hanno fatto domanda di adesione c'è anche il Venezuela, anch'esso grande produttore di petrolio. Ora che cosa hanno in comune tutti questi paesi che stanno facendo domande di aderire ai BRICS? Sono paesi che sono stufi in qualche modo del modo occidentale di gestire le cose nel mondo e stanno scommettendo su questa nuova strana compagnia di soggetti peraltro con interessi divergenti che molto spesso sono ben lontani dall'essere considerabili alleati tra di loro che però inevitabilmente hanno deciso di fare quadrato per sfidare il monopolio occidentale sull'economia mondiale e questa è una cosa che non può essere sottovalutata io ho detto un sacco di cose su questo argomento e mi sono principalmente imbattuto in manifestazioni di vario tipo di tifoserie essenzialmente dove i filorussi vedono i BRICS come l'astro nascente che dominerà il mondo dall'oggi al domani mentre i filo occidentali li considerano come una manica di disadattati che non hanno alcuna speranza di combinere niente e che molto presto litigheranno tra di loro ecco io tutta questa sicurezza da un lato dall'altro non mi sento di avercela ma indubbiamente vedere da occidentale da europeo che no russia iran arabia saudita india cina messi insieme nella stessa organizzazione ok io insomma un pensierino ce lo farei io credo che un leader europeo una leadership europea realmente degna di questo nome è peraltro molto lontana da quella che abbiamo adesso se posso dare una mia personale opinione dovrebbe fare seriamente i conti con questa cosa e pensare al futuro non in maniera ideologico barra propagandistica ma in maniera decisamente più realistica più realista quantomeno di quello che stiamo vedendo adesso e in questo discorso si colloca una delle conseguenze secondo me più interessanti in assoluto cioè quella che in russia viene chiamata pavarotnavostok cioè la svolta ad est della russia qui devo fare un piccolo preambolo storico e mi rendo conto che stiamo andando verso la pippone edition ma ma già l'avevate capito non serve neanche specificarlo comunque sia russia storicamente politicamente geopoliticamente economicamente ha sempre fatto parte dell'europa perlomeno negli ultimi 300 anni della sua storia da quando è diventata impero sotto pietro il grande ok parliamo dei primi del 1700 perché l'europa era il centro del mondo c'erano le monarchie più importanti c'erano le potenze coloniali più influenti del mondo perché il mondo le sorti del mondo venivano decise qui essenzialmente in europa per cui la russia ha sempre voluto farne parte e gli zardi russia si sposavano si intrecciavano con le altre case reali europee anche poi durante l'unione sovietica l'intera guerra fredda la guerra fredda è stata una guerra per il controllo dell'europa perché l'europa era il continente più importante del mondo chi controlla l'europa controlla il mondo tuttavia il mondo di oggi non è più il mondo di qualche anno fa sono emersi dei nuovi centri di potere che puntano a sfidare direttamente testa a testa la guida occidentale dell'economia e della gestione anche politica e strategica del mondo dove ovviamente il primo attore nella lista è la cina che nell'ultimo secolo è realmente l'unico paese in grado di sfidare testa a testa il domine degli stati uniti d'america nemmeno l'unione sovietica ai tempi della guerra fredda aveva questa possibilità perché laddove l'influenza politica dovuta all'ideologia comunista che era largamente diffusa nel mondo che aveva ovviamente nell'unione sovietica il suo leader spirituale chiamiamolo così quindi dicevo al netto di una grande influenza politica in diverse aree del mondo la potenza economica dell'unione sovietica non ha mai potuto competere con quella degli stati uniti d'america nonostante i grandi successi nello sviluppo di nuove tecnologie nella ricerca spaziale nelle missioni spaziali sovietiche anche nelle energie atomiche tutto quello che vogliamo comunque l'unione sovietica restava un nano economico rispetto agli stati uniti che esplodevano dopo la seconda guerra mondiale ok oggi semplicemente non è più così ed è imminente il momento in cui il sorpasso cinese sull'economia americana sarà una realtà con cui tutto il mondo dovrà fare i conti a cominciare dagli stati uniti d'america ecco in questo frangente come conseguenza delle sanzioni tutto quello che è stato fatto nei confronti della russia per tagliare i suoi collegamenti con l'occidente gioco forza la russia si trova a dover scommettere sull'emergere appunto di questi nuovi centri di potere una discussione che è molto viva all'interno dell'ambiente intellettuale decisionale in russia è proprio questa cioè ok noi abbiamo sempre cercato di fare parte dell'europa di entrare nel loro raggio d'azione di interferire con i loro affari in qualche modo di essere un attore che contava là nel continente dove tutto quanto veniva deciso ma siccome un domani non molto lontano potrebbe non essere più così la strategia russa è quella di scommettere appunto sull'est scommettere su questa svolta ad est come la chiamano lassù ovviamente non si tratta di una scommessa totalmente intenzionale è una scelta obbligata perché non si poteva fare diversamente nel momento in cui la russia ha perso i suoi clienti principali ok probabilmente nessuno lo avrebbe mai fatto se non ci fosse stata la situazione delle sanzioni ciò non toglie comunque che questo processo sia già ampiamente in atto e che apparentemente sembra essere irreversibile e questa cosa rappresenta indubbiamente una svolta epocale non solo nella storia russa ma anche nella storia del mondo anche qui è presto per dire come andranno le cose dovremmo aggiornarci indubbiamente più avanti però insomma questo è quello che sta avvenendo peraltro un'altra svolta storica uguale e contraria di pari importanza sta avvenendo in ucraina che è un paese che che se ne dica che ne voglia dire la propaganda il nazionalismo tutto quello che vogliamo fino a dieci anni fa andava da amore d'accordo con la russia russi ucraini festeggiavano insieme la loro storia la fondazione della russ di kiev e tutte queste cose che uniscono culturalmente il popolo russo e il popolo ucraino ok da che i russi hanno mosso guerra in ucraina parallelamente a tutti i discorsi politici ed economici è in corso una de russificazione massiccia dell'ucraina sotto tutti i punti di vista vale a dire la rimozione di tutti i monumenti che possono ridurre alla presenza russa nella storia dell'ucraina che siano monumenti ai soldati dell'armata rossa o ai fondatori delle città della nuova russia come la zarina caterina seconda per la fondazione di odessa che siano anche semplicemente i nomi delle vie che facciano riferimento elementi della cultura della storia russa insomma unitamente alla volontà di eliminare completamente in futuro anche la lingua russa dal paese insomma questa è una svolta storica per un paese per un territorio che comunque sia a fasi alterne eccetera eccetera ho fatto un bel video l'anno scorso sulla storia dell'ucraina comunque sempre stata legata a quell'universo culturale e indubbiamente qualunque cosa resterà dell'ucraina dopo la guerra che sia poco che sia tanto ovviamente dipenderà da cosa succederà nei prossimi mesi nei prossimi anni però quello che resterà dell'ucraina sarà indubbiamente un paese a decisa netta vocazione occidentale che non avrà più nessuna traccia della presenza russa nemmeno nella sua storia ed è interessante notare come dall'altra parte in russia non stia avvenendo il fenomeno uguale al contrario cioè i russi nonostante la retorica putiniana voglia vedere il popolo ucraino come un popolo inesistente cioè semplicemente una variante del popolo russo questa cosa poi però non ha un riscontro propagandistico del tipo ok rinominiamo l'hotel ucraina rinominiamo la stazione kievskai o rinominiamo tutto quanto eliminiamo tutti i monumenti che possono in qualche modo richiamare ai soldati ucraini no questa cosa non sta assolutamente accadendo magari succederà un domani e non dico che non succederà però da parte ucraina la direzione è chiara inequivocabile anche qui assolutamente irreversibile spostandoci invece su un'altra grande area di influenza russa cioè il caucaso lì abbiamo assistito a un vero e proprio plot twist chiamamolo così dove all'improvviso ciò che era vero due anni fa è stato interamente capovolto vale a dire l'armenia che storicamente era il paese più vicino alla russia di tutta quell'area quindi georgia armenia e azerbaijan all'improvviso ha preso una direzione decisamente anti russa cosa di cui hanno approfittato unitamente alla guerra in ucraina gli azeri per chiudere dopo 30 anni la questione sul lagorno karabakh che è stato riconquistato dagli azeri causando peraltro un'enorme crisi umanitaria 100.000 profughi che da lì sono scappati verso l'armenia anche lì una cosa di cui si è parlato poco perché del caucaso non ci interessa moltissimo però inevitabilmente il fatto che la russia sia impegnata in uno scontro strategico di queste proporzioni ha spalancato la porta al fatto che gli equilibri di quella regione venissero ridefiniti perché da un lato abbiamo un azerbaijan che è in piena vena espansiva e che già in questi giorni discute inizia a fomentare quella che potrà eventualmente essere un domani un'aggressione vera e propria all'armenia l'armenia che si sgancia dalla russia per cercare la protezione occidentale e la georgia che fino a due anni fa era il nemico numero uno della russia nel caucaso potenziale candidato a entrare nella nato con contese territoriali con la russia per l'abkhazia e l'ossezza del nord nel momento in cui tutti logicamente si sarebbero aspettati un'esplosione di ulteriore russofobia in georgia la georgia all'improvviso riallaccia i rapporti con la russia diventa una meta privilegiata di tutte le persone che dalla russia scappano voi dalla mobilitazione voi dalle sanzioni e cose di questo tipo sono stati riaperti i voli diretti tra la georgia e la russia nonostante le forti pressioni per non dire le minacce vere e proprie di unione europea e stati uniti d'america che erano contrarissimi a questa cosa e addirittura in generale il governo ha iniziato a varare una serie di provvedimenti che la avvicinano alla russia vi ricorderete forse le proteste dell'anno scorso per una legge sugli agenti stranieri che sembrava ricordare quella russia quando in realtà peraltro era molto più simile alla legge americana ma questa è un'altra storia e in generale il paese sia a livello di coscienza popolare che a livello di dichiarazioni pubbliche di parlamentari o comunque autorità del governo democraticamente eletto in georgia hanno iniziato a comportarsi in maniera più assecondante nei confronti della russia secondo il seguente leitmotiv cioè se loro finiscono in ucraina i prossimi siamo noi con la differenza che noi non siamo così grossi come l'ucraina e con la differenza che a noi nessuno darà la mano che stanno dando all'ucraina per cui in qualche modo possiamo dire che stranamente contrariamente alle attese la guerra in ucraina anziché incendiare la russofobia presente naturalmente in georgia ha ottenuto l'effetto opposto cioè agire da deterrenza e fare in modo che tra i due paesi iniziassero ad esserci delle relazioni più amichevoli di quanto non fossero prima intendiamoci la distanza esiste ancora non sto dicendo che la georgia si è trasformata in un paese russofilo tutt'altro però indubbiamente ha preso una direzione che nessuno si sarebbe aspettato da prima della guerra così come ha fatto l'armenia in direzione opposta e in tutto questo chi sta guadagnando di più da queste situazioni in caucaso è ovviamente l'azerbaigian grazie anche ai suoi legami con la turchia che come tutti noi ben sappiamo è un attore più che fondamentale all'interno di tutto questo gigantesco disastro politico militare diplomatico che è piombato sul mondo dal 24 febbraio dell'anno scorso punto 9 siamo quasi alla fine interessante vedere come questa guerra abbia impattato in maniera notevolissima sulla figura di putin a livello internazionale perché se da un lato è stato completamente isolato dal mondo occidentale fino a ricevere l'ostracismo per eccellenza cioè la condanna della corte penale internazionale al tribunale dell'aia quindi il mandato d'arresto internazionale è altrettanto vero che c'è tutta un'altra parte di mondo che nell'aggressione della russia e l'ucraina ha visto un gesto simbolico di sfida all'occidente e pertanto ha iniziato a vedere in putin la figura del cavaliere mascherato che vendica gli oppressi dell'occidente in giro per il mondo ovviamente mi riferisco ai paesi della zona centroafricana e del sahel avrete seguito forse gli eventi del colpo di stato in niger nel mese di agosto che lì per lì sembrava dovesse esplodere in una guerra tra paesi filo occidentali e paesi filo russi all'interno della zona centroafricana ma che per il momento si è risolto in una semplice applicazione di sanzioni ma comunque con il ritiro della francia dal niger che era un paese dove i francesi avevano enormi interessi economici specialmente per quel che riguarda la raccolta di uranio per le centrali nucleari e anche tutta un'altra serie di interessi di tipo minerario per cui se da una parte il mondo occidentale ha unanimamente demonizzato la figura di putin c'è tutta un'altra parte di mondo che invece lo sta idolatrando e questa cosa non è semplicemente un aspetto folcloristico che si limita alla figura di putin ma è un aspetto che ci segnala il fatto che la russia sta espandendo la sua influenza la sua ingerenza se vogliamo verso intere nuove aree geografiche in assonanza con quello che sta facendo la cina sostanzialmente determinando ancora una volta lo stiamo dicendo fino alla nausea una nuova riorganizzazione degli equilibri mondiali una nuova riorganizzazione delle cosiddette sfere di influenza e in generale dei rapporti politici ed economici tra diverse aree del mondo l'ultimo punto che probabilmente riassume tutto quello che abbiamo detto prima che è verosimilmente il più importante è che con l'inizio della guerra in ucraina con il suo sviluppo si può definitivamente considerare defunto e finito per sempre l'ordine mondiale che era stato stabilito alla conferenza degli alta alla fine della seconda guerra mondiale intendiamoci non è una cosa che è accaduta dall'oggi al domani con la guerra in ucraina la guerra in ucraina è stato semplicemente l'ultimo tassello di una serie di eventi e episodi e guerre del padre degli ultimi vent'anni che sono andati a minare la credibilità dell'onu delle nazioni unite insomma di tutto quello che il sistema di ordine internazionale di equilibrio delle nazioni che era pensato teoricamente per non far scoppiare mai più conflitti della portata della prima della seconda guerra mondiale ma capite bene che quando nel consiglio di sicurezza delle nazioni unite ci sono due membri permanenti come gli stati uniti e la russia che negli ultimi 30 anni specialmente gli stati uniti non hanno esitato a utilizzare la guerra come mezzo per risolvere le controversie per seguire i propri interessi a costo di mentire a costo di fregarsene bellamente delle risoluzioni delle nazioni unite e nel momento in cui al paese che domina il mondo e che quindi in qualche modo si sentiva in diritto di farlo si affianca anche la russia a fare la stessa cosa la credibilità di un organismo come l'onu le nazioni unite è minata definitivamente e lo stiamo vedendo peraltro benissimo adesso con la crisi in medio oriente dove l'onu sta semplicemente diventando quel posto dove la gente va a urlare a mettere in piazza i propri problemi ma le cui decisioni non hanno nessuna influenza a livello mondiale e quindi bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi anni se il sistema di equilibrio delle nazioni verrà riformato verranno create nuove regole verranno creati nuovi sistemi per evitare che la violenza torni a dominare nel mondo eccetera oppure se semplicemente questa parentesi nata alla fine della prima guerra mondiale con la società delle nazioni poi evolutasi in nazioni unite sarà poi da considerarsi definitivamente conclusa oppure relegata a pura e semplice formalità quel che è certo è che l'equilibrio l'ordine mondiale che ha garantito una discreta prosperità in certe aree del mondo specialmente nel mondo occidentale tra il 1945 e il 2022 è concluso e se ne sta definendo un altro che ha come punti chiave tutte le cose che vi ho detto prima per cui vuoi la svolta d'est vuoi l'allargamento dei brics vuoi l'allargamento della nato vuoi questo vuoi quell'altro e indubbiamente le pagine che verranno scritte nella storia del mondo dei prossimi anni saranno di straordinario e inedito interesse perlomeno per quelli della mia generazione io mi ricordo ero in nepal per seva project con john nei momenti in cui stava appena iniziando la pandemia del covid e io così facendo due chiacchiere con il mio amico dicevo certo che noi nella nostra generazione nati alla fine degli anni 80 non abbiamo visto chissà quali eventi storici pensa quelli che erano nati nel 1910 che a 8 anni c'erano la prima guerra mondiale a 30 anni c'erano la seconda eccetera e a quanto pare l'universo mi ha ascoltato un po troppo bene perché prima la pandemia poi la guerra con tutte le conseguenze che vi ho appena detto insomma tra di fatto che la generazione dei miei genitori ha vissuto quasi la totalità della sua vita in un mondo che assomigliava a se stesso sia dal primo giorno che all'ultimo giorno delle loro vite nel nostro caso no indubbiamente il mondo in cui sono cresciuto fino ai 35 36 anni è stato un mondo molto diverso rispetto a quello che sta nascendo in questi giorni in questi anni se ne parlerà moltissimo in futuro e se avrò qualcosa da raccontarvi ve lo racconterò anche io grazie per avermi seguito fatemi sapere che cosa ne pensate di questo piccolo decalogo se volete aggiungere ulteriori considerazioni che vi sembrano di primaria importanza mi raccomando con educazione sempre nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video